Sono dieci anni che faccio gavetta, portavo lampi sulla bicicletta, chiusa in saletta, quindi capisci che mi viene l'ansia a fare una diretta Stai leggendo? No, stai scrivendo? No, manda vado, oh, c'è un sacco da fare, non mi rompe il cazzo Ah, alle 18 c'è il bollettino, poi alle 20 boccia di vino, e se mi prendo un po' di tristezza, prendo il mio uomo e gli faccio un scherzo Io sto solo sul divano, dammi Tony a cartolano A mezzogiorno un bel applauso, provi, verso le due bronzetto sclauso, ah, e ci prova a far ginnastica Non faccio un cazzo, sì, sto accumulando plastica Per fortuna all'orizzonte c'è speranza, per gli arroganti invece arriva l'ambulanza Domani finalmente appuntamento in grande, domani ore 11 vado a donare il santo